Noto rubavano un supporto per climatizzatori denunciati due giovani. Agende del commissariato di Noto hanno denunciato due giovani rispetto a 23-24 anni, entrambi appartenenti a una nota comunità stanziale nel territorio di Noto, per il reato di furto aggravato. Gli stessi nottetempo rubavano, dopo averlo divelto dal muro, un supporto di un impianto di climatizzazione installato presso un esercizio commerciale in via Salvemini. I ladri venivano individuati e denunciati grazie alla visione delle immagini di un impianto di videosorveglianza della zona.